allora signori benvenuti in questo nuovo video e adesso vi porterò a far vedere un po del disney village siamo la sera noi siamo appena arrivati in realtà da un'ora un'oretta e mezza siamo arrivati qua da un'oretta no e adesso vi porterò a mangiare con noi e vedere un po il disney village di sera di notte un po la sua magia e quindi let's go quale annette luca questo è il disney store più grande d'europa come felice raga è bellissimo sì esatto ecco andiamo a lasciarci giù tanti soldini praticamente esatto bravo allora diamo tempo sei contento lu si lo ha visto per una volta l'entrata dei parchi e ma andiamo subito a spendere qui o per il cibo prima prima che abbiamo un occhiata veloce diamo un occhiata veloce con debbi non è veloce si è già fermata la smocollonina infatti noi abbiamo un problema abbiamo trovato le pin è bella la bestia e si vabbè luca è passato della bella la bestia quindi ciao guarda qua però quale foto qua c'è anche green quanto costa green delle nazionalità che belle c'è tutto raga è immenso questo posto credetemi è veramente immenso sono tutti i tipi di orecchie immaginabili veramente una roba assurda trucchi non trucchi quelli i servizi da piatti infatti guardate la coppietta servizi da piatti che bellino che è raga è immenso questo posto poi anche molto molto bello dimmi il nemico mi ha detto se vogliamo mangiare un panino questo il rainforest caffè è dove si è ispirato il nostro giro pizza ovvero il nostro safari pizza questo è stato un attimo la l'ispirazione infatti poi faremo anche un giro internamente lì bene abbiamo votato per il sandwich giusto luca il menù interessante è quello che costa anche un attimo di meno raga perché i prezzi ovviamente sendo a disney costano un po quindi cominciamo bassi stasera e poi investiamo nelle prossime serate e faccio vedere il menù che qui davanti a me allora è un pan focaccia molto buono caldo giustazoso di salsa polpette a mozzarella devo dire molto onesto che danno è anche un negozio è questo luca e dove questo luca e dove hanno preso un po ispirazione è il nostro safari pizza diciamo ma si non lo conosco ma si muove che si muove e a e a 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Questo raga era il video sul Disney Village Mi interessava farlo vedere di sera Perché è dove prende un po' più vita E niente, mi è piaciuto molto Sicuramente lo rifanno Perché comunque da bocci di colloio Dovrebbero rifarlo Nei prossimi mesi, nei prossimi anni E niente, questo è tutto Ci vediamo nel prossimo video Mettete like Mi iscrivetevi Ciao raga